Ma le domande, non sbadigli con la... Un po' di educazione, eh? Eh, lo professor, senta, eh, io c'ho sonno. Già tanto che sto qui che non me ne vado, eh, io non è che ci voglia di stare qui, eh. Ma lei non comanda qui. Io sto qui perché ci sto per rispetto. Se vedo che non ci voglia, non ci voglia, più che me ne vado. Io da solo in... in un'onore e mezza riesco a capire. Queste stesse parole lei andrà a dirle a presto. Vabbè. Vabbè, sti cavoli tanto. Vabbè, non è che mi fa paura da niente nel preside. Con le scuse al professor Raina, Dimitri Tincano accetta il proprio destino. Trascorrerà la notte in isolamento, ma non senza timori. Cioè, proprio da solo, da solo? Dove sta? Ebbè, è una senza pensiero, poi. Eh, ma a me non mi ha la testa da solo. Cioè, non... Beh, non mi può dire che è brutta adesso, eh. Vabbè, questo no. A me, sinceramente, non è che è la mia cameretta, però. Beh. Dimitri è ormai solo, forse un po' impaurito, e pensa ai suoi compagni. I miei compagni, secondo me, se adesso non ci sono, hanno un po' il pensiero. Perché dicono, dove sta? Dove sta? Ecco. Perché dicono. Grazie a tutti